Salve a tutti ragazzi, video misterioso, guardiamo qui cosa è stato registrato a Sydney in Australia, guardate cosa c'è nel cielo, sinceramente neanche io ci ho capito nulla, non lo so ragazzi, detriti non credo, è come una forma strana, non so, non saprei proprio descrivervi cosa diavolo possa essere, sinceramente non lo so. Vorrei fare un ingrandimento per capire, eccolo qua ragazzi, c'è una nuvola, non credo che sia, ma allora che non so ragazzi, è molto difficile, non è facile, quindi non lo so, riguardiamolo di nuovo, non lo so, è molto difficile, comunque ragazzi, come sempre lasciate il vostro commento, il vostro giudizio, e sinceramente ragazzi, ditemi cosa secondo voi è, è qualcosa di normale oppure no, come sempre ragazzi, al prossimo video, ma soprattutto ragazzi, al prossimo mistero. Vi guardate ancora l'immagine e ditemi cosa diavolo è.